Ciao, sono Patrizia Mottola e ti do il benvenuto alla nuova puntata del mio videoblog. Quest'oggi parlerò con te di voce e credibilità. Da esperta di comunicazione e voce vedo e sento continuamente che la maggior parte delle persone non sa catturare l'attenzione, non sa come far ricordare il proprio intervento da parte di insegnanti, politici, manager, venditori eccetera. Quello che manca, che cos'è, è la capacità di gestire i propri toni vocali, la respirazione e la postura. Tutti si concentrano solo su cosa dire senza pensare a come dirlo e a rendere la propria gestualità coerente. Quindi bisogna lavorare su questi tre punti, i toni, la respirazione e la postura per avere leadership, essere persuasivi, credibili e sicuri.